Salve a tutti ragazzi e buon CryptoSaturday! CryptoSaturday, vai! CryptoSaturday ormai! Allora, oggi faremo una bella carrellata di quello che sta succedendo sul mercato, lo so, siete quasi pronti per uscire, però giustamente Bitcoin e il mercato delle crypto non dorme mai, soprattutto di sabato, anche perché, ragazzi, sta succedendo l'impossibile, quindi ti consiglio di guardare fino alla fine. Parleremo di Genesis e le tempistiche del Department of Justice, o come si dice, insomma, è un voto volumetrico che potrebbe portare il prezzo a non fermarsi più di Bitcoin e anche a toccare delle strutture che potrebbero essere interessanti dal punto di vista dei trader, quindi attenzione. Inoltre, ci sono indiscrezioni che la Fed potrebbe essere meno high, o meglio, agli occhi degli investitori la Fed è meno high del previsto, ma vedremo come magari non è così. Inoltre, guarderemo un po' S&P 500 perché sappiamo che Bitcoin è sempre correlato al mercato azionario e eventuali ipotesi su cosa fare. E parleremo soprattutto del size, perché è una cosa che deve interessare tutti, perché il size è importante. Inoltre, vi invito a seguirci sui nostri canali, quindi coinvest.it, Telegram, il nostro gruppo e il nostro sito web perché, diciamo, ha le prime armi. Ok, vogliamo iniziare? Iniziamo leggendo un po' quello che ho scritto stamattina, ragazzi. Allora, buongiornissimo Caffè, come sempre, ormai chi è nel gruppo ci conosce. E, allora, ieri, sia le azioni che le criptovalute hanno spinto più in alto il prezzo di tutto. Quindi, divertente finché è durato, ma vediamo, abbiamo visto che oggi sta ancora andando su. Attualmente siamo su Bitcoin 23.100. Mamma mia, ragazzi, che rally. Allora, una volta che vedremo un pullback, inizieremo a fare più affidamento sulla price action, perché, ragazzi, attualmente ci siamo affidati molto, 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 molto ai dati macroeconomici perché abbiamo visto come tantissime aziende stanno facendo tantissimi licenziamenti, stanno licenziando tantissime persone e questa cosa non va bene. Tecnicamente, per la Fed va bene. Però, a quanto pare, ieri sono usciti i jobs claims e, praticamente, il mercato è ancora molto forte. Non mi ricordo se sono usciti ieri o l'altro ieri, comunque sono usciti e non va bene perché la Fed, praticamente, soprattutto in vista di questo rialzo del mercato, si guarderà alle spalle e dirà forse non è che ho fatto un ottimo lavoro. Però, tralasciamo, poi ne parliamo dopo. Detto questo, diciamo, abbiamo fatto un errore, ragazzi, perché noi eravamo in un trade con short a 21, con stop loss a 21.8k su Bitcoin, siamo arrivati a 23, va bene, ci può stare. L'errore fa parte del gioco, soprattutto del gioco del trader. Ovviamente, io ribadisco che non sono assolutamente consigli finanziari, quindi, mi raccomando, fai le tue decisioni sempre. Ogni volta che un'azienda ha licenza o del personale c'è un pump, abbiamo parlato di Google che ha licenziato il 6% dei propri dipendenti, ma nonostante questo è salita del 5%. Inoltre, c'è stato un commento di un nostro iscritto al canale, molto interessante, dove consiglio di andare a guardare. Quindi, sembra che i segni di un indebolimento dell'economia siano improvvisamente rialzisti. Cioè, ormai tutti i dati macroeconomici che ci sono, sono rialzisti, ragazzi, anche se negativi. Boh, che cavolo, non lo so, non lo so. Quindi, mi chiedo, quando potrà finire tutta questa euforia? Cioè, nel senso, ragazzi, veramente stiamo parlando di FOMO a livelli estremamente alti. Cioè, ci sta Genesis che sta fallendo. C'è Brainard che ha detto che i tassi della Fed devono essere sempre più alti. e niente, qua comunque siamo ancora, siamo praticamente bullish. E infatti qua, praticamente, Genesis, che è uno dei più grossi aziende di trading con data center. C'ha di tutto, ragazzi, c'ha di tutto. Se guardiamo, non lo so, vogliamo guardare gli insight? Guardiamoci data center. Cioè, guardate che data center che ha. In Svezia, in Texas, in Sud Carolina, North Carolina, Sud Carolina, ovunque. Cioè, ovunque. Ha partecipazioni per 3,6 miliardi all'interno del mondo delle criptovalute. Quindi, ora, ha depositato, a quanto pare, il chapter 11. Ok? Quindi fa il documento per la bancarotta. Non l'ha ancora depositato. Ci sono indiscrezioni che lo sta per depositare. Quindi è ufficiosamente in bancarotta. Ora la domanda è Quando è che verranno liquidati tutti questi fondi, tutti questi soldi? Chi li preleverà? Li preleverà qualcuno? Boh, abbiamo visto già come BlackRock ha salvato varie aziende di mining di criptovalute, di bitcoin, eccetera, eccetera. Ora, che cosa succederà per Genesis? A quanto pare, nessuno la vuole prendere. Quindi, nel momento in cui i creditori faranno affidamento al Dipartimento della Giustizia americano per ricevere i propri soldi, che sarà comunque abbastanza lungo, quindi nell'ordine delle settimane, se non mesi, che cosa potrà succedere? Questa liquidazione, che cosa potrà succedere? Che cosa potrà fare? Questo è un rischio di coda, ragazzi. Il rischio di coda, ve lo faccio vedere, il rischio di cosa? Capire il rischio di coda, dove praticamente c'è la chance di un possibile evento raro, come potrebbe essere il fallimento di un'azienda, come Genesis. Quindi, non è da sottovalutare questa cosa, ok? Quindi, stiamo entrando in una finestra, che è la finestra di febbraio, in cui potrebbe... Il prezzo, abbiamo visto che, nonostante la price action, vediamolo qui, abbastanza... Non è proprio fortissimo il prezzo di Bitcoin, perché comunque il grafico è molto esteso, sembra proprio che è andato a prendere un sacco di liquidità. È andato a prendere prima qui, la prima liquidità qui. Poi si è creato questo gap del CME, del Chicago Mercantile Exchange. Poi, nuovamente qui, è andato a prendere liquidità qui. Quindi qua ha fatto... Questo è un consolidamento, no? Aveva fatto intendere... Ha fatto intendere di non voler consolidare il prezzo. Quasi come se avesse rifiutato. Poi, nonostante tutto, è stato innescato nuovamente da qualche attore di mercato che, a quanto pare, gli interessa che il prezzo salga. Ora, ci sarebbero tante indiscrezioni da dire, da fare, però, ovviamente, sono tutte cose campate in aria e a me non piace parlare di cose campate in aria. Quindi, preferisco non dire quello che penso, ma, comunque, bisogna riflettere su queste cose, perché, ragazzi, secondo me non è successo a caso. Questo rialzo del prezzo di Bitcoin. Ok. Ora, stiamo cercando... Abbiamo visto come abbiamo rotto anche i livelli, questo qui, i livelli del Big Short, praticamente. Io lo chiamo il Big Short, perché poi sono entrato short su Bitcoin. E abbiamo visto come il prezzo ha fatto meno. Vediamo un po'. Ecco da qua. Un meno 20%. Che non è poco. Un meno 20%, ragazzi, eh. Nel giro di una settimana. Quindi, attenzione, perché anche qui potrebbe succedere una cosa simile. Potrebbe succedere che il prezzo va a ritestare qui, che l'ultimo livello di contrattazione dei prezzi di Bitcoin, dove è stato rigettato, qui, lo vedete? Quindi qui potrebbe andare a fare una cosa del genere, e magari potrebbe anche andare a scendere di un 20%, per poi poter risalire. Ok, quindi è davvero interessante capire il prezzo, come si potrebbe muovere nel prossimo futuro. Abbiamo visto... Allora, c'è stato un... Allora, voglio farvi vedere questo pitchfork. E basta. Vedete come siamo su questo livello, che potrebbe essere l'ultimo. Quindi potrebbe arrivare qui il prezzo di essere rigettato, ma nel caso in cui dovessimo rompere quella struttura, eh, ragazzi, lì avremmo... Avremmo creato un higher high. Quindi rompiamo la struttura bearish, e potremmo... Poi qui c'è un vuoto volumetrico, e potremmo arrivare tranquillamente qui, in questa zona qui, guardate. Questa zona qui. Questa zona dai 28 ai 31.000. Che non è assolutamente poco. Non è poco, ragazzi. Questa è proprio la mia short zone, il caso in cui dovesse succedere. A proposito della short zone, mi raccomando, è difficile... È vero, è difficile entrare in un... Voglio cambiare schermata. È difficile entrare in un consolidamento, è difficile entrare su una resistenza, perché fondamentalmente chi è entrato qui, su questo livello qui, è entrato long su una resistenza. Noi sappiamo che la base, la base, è non entrare in resistenze, non entrare long su resistenze, e non entrare short sui supporti. È proprio la base, a meno che non vengano rotti, e ritestati. In quel caso si potrebbe pensare con un size, diciamo, equiparato al proprio rischio, ha proprio la propria aderenza al rischio, entrare long. Assolutamente fattibile. Ma che vada avanti, imperterrito, senza un appoggio, senza una struttura, perché non... Questa qui non è una struttura, ragazzi. Questa qui non è una struttura. Cioè, è semplicemente un rialzo dettato da attori di mercato che hanno interesse, a quanto pare, di bitcoin. Vabbè, comunque, tradasciamo. Parliamo un po', ragazzi, ieri purtroppo non sono riuscito a mandarvi queste cose. Allora, qui era una formazione di una... una specie di bullish flag su Haglod. Inoltre, quindi questo qui, il prezzo potrebbe fare una cosa del genere. Poi parliamo di bitcoin. Bitcoin lo lascio per ultimo, ragazzi, eh. Allora, dov'è il pennello? Ecco qui. Qui è andato a ritestare, però ovviamente ormai è tardi, quindi potrebbe fare una cosa del genere. Mi dispiace, ragazzi, non l'ho mandato in tempo nel gruppo Telegram, e quindi niente. Anche, ecco qui, già ce l'ho segnato, Curve. Curve che potrebbe essere interessante. Qui, ragazzi, purtroppo non sono neanche riuscito ad entrare, ho semplicemente fatto un'analisi e sono dovuto andare via e quindi non ne ho potuto neanche operare io personalmente. Quindi, ieri quando ho fatto questa... questa struttura ero... eravamo qui, più o meno su questo livello qui. Abbiamo visto come stamattina, praticamente, ha fatto una cosa del genere. Previsto, però purtroppo niente da fare, ragazzi. Avevo anche, ipotizzato una cosa del genere su Ethereum, infatti, era fermo in questa specie di rettangolo dove praticamente ha rotto al rialzo. Poteva anche rompere al ribasso. Infatti, qui avevo due frecce, una verso l'alto e una verso il basso. Qui, ha ritestato questo livello e ora sta risalendo. Eh beh, ragazzi, purtroppo non è... non è successo in tempo. Inoltre, abbiamo il VIX che è abbastanza... un po' traballante il VIX perché praticamente ogni volta che viene spinto verso l'altro poi viene rigettato quindi la volatilità è ancora troppo però nulla toglie che il VIX possa risalire e raggiungere nuovamente i livelli di 30. Attenzione sempre al tail risk di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi, evento improvviso che potrebbe far scaturire qualcosa di brutto. Ora voglio parlare della Fed Brainard. ieri c'è stato il discorso di Brainard sulla... fa parte della Fed e... e il suo speech live ha chiaramente definito che cosa? Che la Fed vuole assolutamente tenere i tassi alti per poter abbassare l'inflazione al 2%. Invece gli investitori che cosa stanno pensando? Stanno pensando che molto probabilmente la Fed aumenterà prossimamente primo febbraio a 25 punti base il mercato sale, sale, sale. Ovviamente la Fed deve combattere questa cosa. Quindi che cosa succederà? Che o la Fed inizierà ad aumentare magari di 50 punti base oppure gli investitori inizieranno a pensare che la Fed molto probabilmente farà il suo secondo aumento di 25 punti base come già restabilito dai dot plot del del FOMC e li lascerà così fino a 2023 inoltrato quindi in metà del 2023 e questo che cosa potrebbe causare? Potrebbe causare una rottura di qualcosa perché ovviamente drena liquidità dei mercati i tassi alti drenano liquidità dei mercati ok e questo potrebbe innescare che cosa? Ve lo faccio vedere qua un hard lending perché la Fed punta giustamente ad un soft lending un atterraggio morbido quindi qua Goldman Sachs ci fa vedere come potrebbe succedere cosa potrebbe succedere con un soft lending e con un hard lending secondo me faremo proprio un brutal lending cioè qualcosa proprio di veramente massiccio che vada giù e quindi magari potrebbe andare a ritestare i livelli mai visti poi li vediamo sul grafico quindi capite la differenza tra un soft lending e un hard lending un soft lending è un qualcosa dove magari i tassi rimangono in maniera un po' più diciamo alti però per meno tempo in modo tale che l'inflazione si abbassi quindi piano piano l'inflazione si abbassi e successivamente dopo aver abbassato l'inflazione man mano diciamo tagliare un pochettino i tassi però se il mercato è forte se il mercato finanziario si aumenta no quindi tutti gli indici azionari aumentano questo significa che la fed non ha fatto un buon lavoro quindi deve tenere i suoi tassi per più tempo più alti e questo causerà un hard lending infatti vediamo come lo standard Empure 500 ragazzi chirurgicamente chirurgicamente sbatte continuamente contro questa resistenza allora io non amo non amo per niente chi mi segue su telegram chi mi segue anche qui su youtube lo sa che io non amo assolutamente le trendline dinamiche sono cose che praticamente neanche l'analisi tecnica fondamentalmente amo tantissimo mi piacciono le linee orizzontali perché giustamente sono quelle che guardano tutti cioè non hanno cioè tu le trendline le puoi mettere anche così volendo ecco quindi questa trendline in questo caso sarebbe così ecco magari no così sarebbe così quindi in questo caso l'avrebbe già rotta quindi bisogna bisogna considerare che comunque sono trendline trendline sono da considerare diciamo non tanto affidabili ecco comunque torniamo al discorso che volevo farvi su questa trendline perché è un discorso abbastanza molto 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 come dire difficile anche da fare perché allora la trendline questa trendline soprattutto specialmente questa trendline che ormai la stanno guardando tutti ragazzi cioè e io utilizzo questa trendline perché è veramente guardata da tutti che cosa potrebbe succedere a questa trendline nel caso in cui dovesse essere rotta questa trendline infatti non a caso guardate dove si è fermato il prezzo ha fatto un breakout però subito è rientrata nel caso in cui dovesse rompersi questa trendline quindi fare una cosa del genere chiudere la candela giornaliera qui o magari qui sui 4000 dollari potrebbe avvenire un si chiama sono tutti quei tutti quegli attori di mercato che agiscono con un trend following ok quindi trend is your friend ok in questo caso se il trend viene rotto che sarebbe questo qua della trendline dinamica il trend diventa magicamente rialzista quindi che cosa potrebbe succedere che entreranno tantissimi attori di mercato long che potrebbero portare il prezzo a fare una cosa del genere magari ecco ad andare su questi livelli qua poi magari essere rigettato perché vediamo che qui come è stato rigettato il prezzo vediamo vedete qui come è stato rigettato il prezzo c'è è stato rigettato anche qui fondamentalmente poi agito da supporto poi agito da proprio da sfondato vabbè agito qua da resistenza quindi tutti questi attori di mercato potrebbero entrare all'interno del mercato long e far aumentare il prezzo magari fino ad arrivare qui e abbiamo visto come il coefficiente di correlazione tra il mercato tradizionale e il mercato di bitcoin il mercato cripto è altissimo è altissimo di conseguenza se standard impur quindi sm 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 standard impur 500 aumenta e arriva fino a 4150 perché qui comunque è una zona abbastanza ci sono tanti contratti fondamentalmente e bitcoin potrebbe aumentare e l'aumento di bitcoin potrebbe avvenire con la rottura di questo livello qui potrebbe rompere questo pitchfork potrebbe rompere questa struttura qui che prima agita da supporto poi da resistenza qui questo qui è tutto un voto volumetrico che abbiamo in questo tutto questo canale qui è tutto un voto volumetrico che potrebbe portare come abbiamo visto il prezzo andare da qui a prendere questo livello qua potremmo andare da qui quindi da questo livello qui a prendere tutto questo voto volumetrico qui e salire fino ai 30.000 dollari dai 28 ai 30 vedete qui c'è questa pancia di volume e questo qui potrebbe essere colmato ok quanto siamo arrivati 18 minuti 19 c'era qualche altra cosa da dire controlla un attimino allora ah ecco nel caso in cui il prezzo qui non ritorni più potrei considerare ragazzi questi non sono consigli finanziari queste sono cose personali vanno fatte in maniera questa è la gestione del proprio patrimonio ok quindi non dovete ascoltare né me né nessun altro solo voi dovete ascoltare quindi nel caso in cui ecco qui magari questo qui si vede che è praticamente un supporto no e questa zona qua è una resistenza scusatemi questa resistenza difficilmente si può entrare lungo su una resistenza però si potrebbe pensare di poter metterci fare il trader fondamentalmente perché quello fa il trader e entrare con un rischio un risk reward abbastanza ragionevole no rispetto alle proprie le proprie come dire la propria avversità al rischio si può dire si allora in questo caso magari il risk reward poteva essere una cosa del genere quindi entrare magari a metà della candela di questa candela daily con una possibilità davvero minima questo è proprio da da sniper da sniper si entrava su questo livello che poi è il livello vediamo un po' 0.5 di fibonacci ok si diceva nel caso in cui dovesse entrare d'ordine benissimo entra d'ordine ho una possibilità di poter andare al rialzo ovviamente qui c'è un rischio elevatissimo di essere buttati fuori quindi il risk reward sarebbe mettiamo caso il 2% ok io entro con un capitale di 100 dollari nel caso in cui dovesse succedere qualcosa al limite perdo 2 dollari oppure 20 dollari oppure 5 dollari poi dipende da quello che volete voi ovviamente e magari chiudere la posizione magari neanche neanche dove si troviamo ora magari mettere un no qui in realtà la posizione potrebbe essere chiusa qui effettivamente perché qui vediamo che c'è una presa di liquidità effettivamente perché questa è una presa di liquidità quindi il prezzo molto probabilmente se è stato spinto dagli attori che penso questa liquidità qui era quello che volevano andare a prendere e ora si sono andate a prendere pure questa la successiva che abbiamo è questa qui vediamo se la vanno a prendere se non la vanno a prendere ragazzi non lo so cioè nel senso vediamo vediamo per me è probabile è molto probabile che il prezzo perché veramente sembra una cosa stranissima guardate i volumi come sono bassi sono bassissimi i volumi quindi ci deve essere per forza qualcuno che ha voglia di far aumentare di far alzare il prezzo non sappiamo ancora precisamente cos'è ma io quello che mi aspetto alla mia opinione personale su questa cosa è che molto probabilmente ci sarà un catalizzatore che porterà i prezzi a scendere giù molto molto giù non magari a prendere non magari a andare a toccare livelli come questi qui perché magari non è ora non è il momento ma magari andare almeno a colmare questo gap del CME del Chicago Mercantile Exchange e magari nel caso in cui dovessimo rompere questo livello qui qui abbiamo quest'altro voto volumetrico che potrebbe essere colmato quindi andando al ribasso niente ragazzi allora questo video l'abbiamo già portato a 22 minuti quindi io direi quasi di fermarci nel caso in cui vi piaccia vi piacciono queste mie considerazioni mi raccomando lasciateci un bel like perché ci fa piacere e ovviamente ci porta a creare sempre contenuti nuovi di qualità eccetera eccetera abbiamo un gruppo Telegram già te l'abbiamo detto visitalo visitalo perché trovi tante informazioni interessanti e ora stiamo studiando una nuova situazione quindi nel caso in cui tu voglia partecipare a questa nuova iniziativa mi raccomando entra sul gruppo Telegram perché fra poco avrai notizie niente ragazzi da Coinvest è tutto da Michele ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti